cari amici buongiorno dunque come promesso vi mostro le prove di rosata della sipe e della migrina lamellare partendo partiamo quindi dalla sipe ho sparato a 35 metri con mio fucile banelli canna 67 3 stelle dunque mi pare evidente che considerando la distanza la rosata è molto buona ho utilizzato una sagoma di tordo per avere un'idea un po di quanti pallini avrebbe preso e devo dire che la cartuccia già c'erano otto pallini a bersaglio considerando la distanza considerando la densità di rosata possiamo affermare che la cartuccia è veramente buona piombo numero 10 vi ricordo quindi il tordo sarebbe sicuramente caduto secco ci sono tanti pallini e bersaglio approvo assolutamente questa cartuccia anche come rosata ma vi ricordo avevo già detto l'avevo provata sul campo e quindi già mi aspettavo buoni risultati bene andiamo alla migrina lamellare stessa situazione precisa sempre 25 metri stesso tipo di fucile di canna e allora rispetto alla sipe abbiamo avvenuto qualche vuoto di rosata in questa zona che però quindi non sono soddisfatto proprio al 100 per cento come l'ero con la sipe però ci sono almeno 3 4 pallini a bersaglio forse addirittura anche 5 perché c'è pure questo si vede appena e quest'altro qua in testa quindi penso che ugualmente avrebbe fatto il suo lavoro diciamo che la cartuccia è abbastanza buona penso che a questa distanza avrebbe avrebbe ugualmente fatto bersaglio ma penso che in qualche modo si possa anche migliorare forse scendendo a 1 70 di polvere ma avremmo potuto migliorare qualcosa sarebbe stato interessante utilizzare più un po 10 quindi aumentare la densità di rosata con più pallini per vedere un po se si infettiva un po quindi non dico ottima però una discreta cartuccia non escludo che in altre giornate possa migliorare anche perché ieri quando ho fatto le prove c'era parecchio vento così come non escludo che in condizioni ancora peggiori possa peggiorare ulteriormente con qualsiasi altra cartuccia da quello che posso vedere della nostra prova dovrei dare un 6 più a questa cartuccia mentre queste disipe che chiaramente hanno arrivato molto più fitta e compatta a questa disipe dicevo che hanno arrivato molto più fitta e compatta posso dare tranquillamente otto e mezzo bene anche per oggi è tutto un grande saluto e alla prossima ciao